Allora, mi trovo all'Hotel des Anglais e ho avuto la fortuna di assistere ad un minuto delle prove del coro di Riga, il Cosmos Coro, che questa sera duetterà con Albano, in un pezzo molto importante, che ha un arrangiamento importante, diretto dal maestro Aterisio Paoletti, che abbiamo conosciuto prima, e questi ragazzi che vedete, io ve li inquadro così rapidamente, sono giovanissimi, ma sono strepitosi. Ve lo assicuro. Io adesso, in un mio inglese terribile, farò un paio di domande a questi ragazzi. Just a couple of questions. How do you feel to be on the Arliston stage with Albano? You know that Albano is one of the most important singers in Italy. What is your feeling? We feel very honoured and we are very happy. It's of course a great experience for us. I hope everything will go fine. And I guess it will be a very good song, a very good performance, and a very good duet. So I hope everyone will enjoy this song, as well as in the venue, as well as on the TV. Gli ho chiesto che cosa provavano ad essere all'Ariston, a Sanremo, in una manifestazione così importante, con un cantante così famoso in Italia e anche all'estero, quale Albano. E lui mi ha risposto che sono molto emozionati, naturalmente, che per loro è una grande e importante esperienza. Che sperano di far bene, ma su questo io non ho dubbi. I have no doubt, you will be very fine on the stage, because you are very good. E poi che praticamente sono molto contenti di questa esperienza italiana e cercheranno di dare il meglio, perché la canzone a cui praticamente faranno il coro, ma un coro importante, è una canzone molto bella, ben arrangiata e che sicuramente emozionerà l'Ariston. Quante componenti nel tuo chioio? Well, componenti, se vuoi dire quanti voici sono nel nostro chioio, nel nostro gruppo vocale, siamo 6 persone qui, e noi cantiamo molto diversi tipi di musica, e noi facciamo molto pop musica, ma anche se facciamo rap musica, ma anche se facciamo rap musica. Contamination! Well, Erwin's is because we have our.... our own beatbox guy. He's sitting right there. He's doing ... Loro dicono che praticamente è un manager amministratore. No, è un ragazzo scritto, quindi possiamo fare tutto senza gli instrumenti. Ok, ragazzi, praticamente loro sono sei cantanti, così mi hanno risposto, il loro gruppo che ho formato da sei cantanti e poi c'è praticamente lui che ti chiami, what's your name? My name is Reynis. Reynis? Your look is very nice. Bene, ok. Io ragazzi vi ringrazio, però vi lascerei, mi intonate. Can you sing a little bit? Bravissimo, bravo. An instrument. Perfect, better than an instrument. Thank you very much, guys, and good luck. All right now, do we need it? Yeah! All right now, do we need it? Yeah! All right now, do we need it? Yeah! Grazie mille, grazie mille ragazzi!